Weekend nelle Marche per il segretario della Lega Matteo Salvini che fra Macerata, Pesaro e Fano ha fatto tappa nelle piazze per raccogliere personalmente le firme al referendum sulla giustizia accompagnato dagli esponenti della Lega Territoriale. Un'operazione che a Pesaro si è materializzata sabato mattina in un gazebo all'angolo fra Via Branca e Piazza del Popolo. Raccolta firme sulla quale il leader leghista ha espresso viva soddisfazione. 300.000 firme in 20 giorni a luglio con 40 gradi è una cosa incredibile mai vista in precedenza. Ieri sera a Fano abbiamo dovuto andare via a mezzanotte perché non ce la facevamo più, partiamo stamattina poi a Rimini. L'entusiasmo che c'è mi fa pensare che non raggiungeremo mezzo milione di firme ma raggiungeremo 2, 3, 4 milioni di firme. Quindi è anche una garanzia per Draghi perché se 5 Stelle e PD tirano il freno a mano queste firme aiutano a correre, ad accelerare. Salvini è tra l'altro arrivato nelle Marche ad una manciata di giorni dall'aver ricevuto la sua personale somministrazione di vaccino. Tematica che assieme a Green Pass e riapertura delle scuole a settembre ha affrontato anche nella sua visita pesarese. Dobbiamo lavorare per mettere in sicurezza chi rischia di più, gli anziani, i nonni, coloro che hanno altre malattie, senza rovinare l'estate e complicare la vita. Ad altri milioni di italiani io mi sono vaccinato per mia scelta, non per obbligo. Io ritengo che debba essere una libera scelta per tutti, soprattutto per i ragazzi perché quando sento parlare a sproposito di far entrare in classe a scuola bimbi e ragazzi solo se vaccinati e gli altri li lasciamo a casa, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Noi stiamo lavorando per una scuola aperta a tutti. Ma io ho fiducia negli italiani che non hanno bisogno di divieti, di multe, di obblighi, di burocrazia e sanno cosa andranno a fare. Quindi io invito tutti a informarsi e a scegliere. Quello che non accetto è la multa, il divieto, la burocrazia. È un'estate già difficile, se complichiamo la vita ai lavoratori rischia di diventare ancora più difficile. La gente deve poter scegliere liberamente come ho fatto io. Io mi sono vaccinato ma non voglio imporre a nessuno di fare quello che ho fatto io. Fra due mesi riapre la scuola, a che condizioni deve riaprire la scuola? In sicurezza, con classi senza 30 bambini per classe, con il ricambio dell'aria. Io ringrazio Regione Marche che ad esempio ha investito 9 milioni di euro sulla sanificazione dell'aria, altro che banchi con le rotelle. Però per quello che mi riguarda, per quello che riguarda la Lega, non ci deve essere un solo bambino che rimane fuori dalla classe. Grazie.